Ecco, questo signore viene da lontano, viene da Siena e ha fatto quello che io chiamo il doctor's shopping, cioè ha consultato tutti gli specialisti perché non si leggeva in piedi, appena appena col busto, non riusciva a fare più di 300 metri, camminare, in più in macchina aveva la tendenza a sbandare da una parte. Racconti un po' lei così, è la seconda volta che ci vediamo e quello che è successo. Sì, questa è la seconda seduta ed è vero quello che ha detto il dottore, io non riuscivo a camminare, stare in piedi per me era una sofferenza perché abbiamo dei dolori alla schiena, le gambe insopportabili, guidare stava cominciando a diventare pericoloso, guidare stava cominciando a diventare pericoloso perché il mio orizzonte non era più orizzontale ma era sempre inclinato verso sinistra, quindi io era come se guidassi sempre su una curva parabolica e la sera soprattutto col buio e la notte valutavo male le distanze quindi ero troppo vicino o ai guardaio di sinistra o al camion o alla macchina che stavo sorbassando, quindi era veramente pericoloso. Io non voglio sembrare esagerato ma è come se fossi stato miracolato perché è la prima volta in anche vent'anni che io dopo due sedute ho la prospettiva della vita completamente cambiata, dolore molto 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 ma molto meno, più autonomia nel camminare, riesco a dormire meglio, non riuscivo a stare stagliato orizzontale tant'è che a caso ho dovuto mettere il letto ortopedico, adesso praticamente se lo alzo un po' ma più per abitudine che per altro, direi che sono contentissimo, assolutamente contentissimo nonostante le cinque erde lombosacrali, può stare, si alzi i piedi e veda così come ecco, senza aiuto, però è a camminare, ecco, prima non camminava, mi fa piacere, la ringrazio, posso pubblicare perché sono testimonianze che gratificano l'aggiano assolutamente, grazie grazie